Here we go again! Il livello 1 Allora non so effettivamente Eddie Su mobile Quanto perfetto Perfetto ok Avevo già provato a fare questo livello Ma non ho mai finito niente Ma perché avevo solo provato ad approcciare il gioco Ok quindi ci sta che non abbia finito nulla Proviamo a giocare con Eddie oggi Non so ragazzi eh perché Mi ricordo che già anche solo questo era impossibile Quindi vediamo se riesco a fare qualcosa Ora che sono più Bravino Dai che ho detto la cagata Dai che ho detto la cagata Funiscimi Ho detto che sono bravino Ammazzami Come faccio a essere vivo non lo so Va bene È strano perché in genere quando dico che sono bravo Che sono eh poi muoio subito Non sono morto subito Anzi mi ha graziato Gesù Grazie Non succede molto spesso questa cosa Meno male ragazzi Let's go Allora andiamo avanti Questo livello Questo video Mettete mi piace subito Cioè non sono riuscito a vincere Il primo livello senza mai morire È pazzesca sta roba Vavonos Si è perso un pesce Alla ricerca di Nemo Ehm va bene Con Eddie lo devo trovare Già che io non Già non so dove sto andando io Devo trovare pure un pesce Ma porco Il demon Non potevi stare andato a boccia di vetro Maledetto schifoso Vabbè Povero pesce Non è colpa sua Però porca vacca Ok Senza gambe Chi se ne frega Senza colonna vertebrale Invece potrebbe essere un problema Vorrei provare a vedere No perché Nei livelli normali Di EpiWiz con Eddie Faccio praticamente ormai Solo i Rob Swing Ormai Non sto più facendo EpiWiz normale Ma faccio solo i Rob Swing Voglio vedere se in questo Effettivamente Trovo più difficoltà Mi pare di sì Perché comunque Questo gioco qua Ve l'ho detto Non è EpiWiz Ma è peggio Di Super Meat Boy O e Cat Mario Messo insieme Cioè EpiWiz Mobile È la rovina Dell'essere umano Io l'ho detto sempre Mi dà ragione anche Elon Musk L'ha detto in un tweet L'altro ieri Andate a vedere Sono andato bene No l'ho detto L'ho detto Dai posso morire Dai puoi uccidermi Non mi uccidi Va bene Raga sono emozionato Sono molto emozionato Andiamo avanti L'ho trovato Come sei finito Quanto sei grosso Ma non è un pesce Un tirannosauro Cioè ma non ho capito Vabbè Andiamo avanti ragazzi Allora Per adesso 2 su 2 Non è male Perché nell'ultimo episodio Ne avevo fatti solo 3 Perché poi mi sono fermato Quindi 3 su 5 Ho riuscito a fare Qua voglio provare a fare 5 su 5 La partenza non è male Ragazzi eh La partenza non è male Vediamo se riesco a tenere Perché Eddie comunque Sono skillato io con Eddie Sono anni che gioco a sto gioco Almeno un po' di bravura Me la sono portata dietro Dalla versione per PC Almeno quella Ho detto la cagata nel momento Non sono vivo Ok ok Perfetto Che bello sto livello Mi sembra anche carino A livello di colori questo Vai Eddie Forza Forza che abbiamo finalmente trovato Da che parte Non so da che parte andare Raga Penso di andare di qua Spero di sì Era giusto Sai che non lo Sì sì Era giusto Perfetto Vai Occhio 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 Sono vivo Dove vado Devo prendere il bottone al volo Vai Non l'ho preso mai Nella vita Fa niente Riproviamoci Cioè praticamente questo è un livello Dove devo schiacciare Devo solo schiacciare i bottoni In poche parole Non è male come idea Il problema è che non li centro Neanche a pagarli Però forse adesso Sì Buono Slow Che culo Vai a destra Vai a destra Verso il quarto Oddio Oddio Verso il quarto livello Che sembra Goku Che devo saltare lì Eh vabbè Qua non ci arriverò mai E invece Madonna un fenomeno E mo T'è stata fortissimo Bravo Minchia che forte Sono vivo Mi ha tenuto in piedi il manico Bisogna incastrare Sono ancora vivo Forse posso andare anche di qua Non devo andare di qua Mi sa Però forse mi salvo Forse devo stare zitto Dai dai Che questo ce l'abbiamo fatta Dai dai E l'emozione Di averne fatti Tre di fila Questo è il quarto E l'emozione ragazzi Ce la faccio tranquilli Don't worry Ormai lo so Ormai lo so Vai piano Perfetto Perfetto Proprio lui Un maestro di Happy Wheels Ok Ecco Se esistessero le scuole di Happy Wheels E sarei miliardario Il problema è che non esistono Purtroppo E chissà perché Mi faccio sta domanda Ma non so rispondere Molto bene Non è vero Mai nella vita Allora Porco il demonio Porco il The Morning Gaming Mi sono lanciato Ce l'ho Ma cosa Ma dove Ma cosa succede Mai Vabbè Quarto l'abbiamo fatto Vai verso il quinto Ecco Si presenta malissimo Il quinto Va bene Allora ragazzi Per adesso Tutto bene Prova a lasciare Minchina Mi sono salvato Non lasciamo Scherzavo Andiamo avanti Di qua Ok Perfetto Perfetto Provate a lasciare ragazzi Perché me la sentivo Magari se vado veloce Stavolta ce la faccio Magari la prossima volta Sto zitto però Madonna Cos'ho schivato Finale Proprio Ok ragazzi Qua è il problema Perché vi giuro Che non so come fare Corro Però anche correndo È proprio difficilissimo Ma totale Però proviamoci Ce l'ho fatta Madonna Oddio Cos'è questo Non me ne frega niente Vai 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 Perfetto Sono arrivato di qua Di per traguardo Ce l'ho fatta A posto Quantino ho fatti Cinque Oh Proviamo anche il sesto Ma dai Prova a fare anche il sesto Non lo so Non mi prometto niente Ma già che ne abbiamo fatti Cinque Very nice Cos'era sta roba Oddio Ragazzi Tutto bene Mi sa che muoio Ciao Eccoci A posto Tra l'altro quando muori Lui ti fa partire Proprio lo slow motion In automatico C'è proprio automatico Dalla serie Tanto devi morire Te lo metto Vabbè Eh vabbè Ho capito Ok Ok Ce lo fa Non so come ho fatto Perché alla fine Mi sembra di aver fatto quella prima Però ok Va bene Cosa devo fare qui Che ansia Ok come prima Minchia A posto A posto A posto Tutto ok Tutto bene Quel che finisce bene Devo tornare a sinistra Va benissimo E uno slalom Praticamente Let's go Perfetto Dammi un traguardo Dammi un traguardo Eccolo lì Ho capito Cosa vuole farmi fare Pensavo crollasse tutto il tetto Che dovevi scendere Dovevi uscire a sinistra Ma non l'ho toccato Il traguardo Vabbè dai Fa niente Vabbè Oggi perfetto Oggi meraviglioso Strano Perché non capita Spesso L'ultima volta Per fare 5 livelli Ci ho messo Non ne ho neanche fatti 5 Non ho fatti 3 Che non riuscivo Oggi Non ho fatti 6 Boh Sto gioco è tutto strano Spero che il video vi sia piaciuto Adesso abbiamo giocato Tutti i personaggi Su Applebee's Mobile Quindi nei prossimi episodi Faremo un po' di mix Spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Aspettiamo che esca Applebee's 2 E poi moriamo Definitivamente Lasciate un bel commento Su quello che pensate Di questo video Tipo che faccio schifo A Applebee's Non è vero Non ditelo Iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi Ciao 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 Grazie a tutti